Buonasera, buonasera a tutti voi. Buonasera per l'ultimo sabato di emergenza totale. Buonasera perché stasera ha parlato il Presidente Conte e ci ha dato buone notizie. Buonasera perché è l'ultima volta che dovremmo avere questa sensazione un po' di oppressione in un sabato dove camminando per strada non abbiamo trovato negozi aperti, non abbiamo visto vetrine dove non c'era praticamente niente. Buonasera perché prima o poi anche tutte le notti più buie finiscano e pare che anche questa situazione Covid stia ormai alla fine. Speriamo almeno e speriamo che il lunedì sia un grande nuovo inizio. Buonasera perché è la 62esima puntata, vuol dire che sono 62 giorni di fila senza mai averne saltato uno che comunque noi ci vediamo, ci incontriamo e che da questa emittente parte questa trasmissione. Una trasmissione che ha analizzato il Covid-19 in tutte le sue forme ma diciamo principalmente nelle due forme principali e cioè l'emergenza sanitaria che devo essere sincero forse da una settimanetta la sentiamo meno, ne parliamo meno, forse vogliamo far finta che non esista più o forse realmente esiste meno. Sicuramente però è entrata di prepotenza in scena il Covid-19 economia. Sembra quasi un titolo di un libro ma è forse il libro più mostruoso ed è il libro che ci vedrà più occupati e ci vede anche un po' preoccupati oggi e ci vedrà preoccupati dal lunedì 18 dove dovremo riniziare una vita diversa. Ho una mia opinione su quello che succederà dal lunedì e su quello che diciamo è stato deciso in questi giorni, ne parleremo però piano piano con i nostri ospiti di stasera. Tanto per cominciare farei entrare il mio co-conduttore che come mai molti di voi sanno è il rettore dell'Università Niccolò Cusano, il professor Fabio Fortuna che è arrivato con un balcone giusto ieri o l'altro ieri perché lo vediamo nero in faccia. Lei è un esempio di salute, voglio dire, c'è una cosa... Guardi, no... Ah, meno male c'ha una mano bianca, questo mi piace. No, non riesco a preparare il colore, adesso ci riuscirò. No, glielo voglio dire perché secondo me lei si salva solo per la mano bianca, anzi si porti la mano così in giro. No, adesso ci riuscirò. Come va Bandecchi? Ha visto la conferenza stampa? No, no, ho mangiato... Ho visto io al posto suo. Sì, l'ha vista lei, no, ho mangiato, ho mangiato anche perché io ormai ho maturato un'idea in questi giorni, lei mi deve perdonare, ma ho maturato l'idea del liberi tutti obbligatoriamente perché non abbiamo saputo cosa fare realmente e ora tornate a lavorare così almeno mettete a posto i vostri conti. dato che noi non l'abbiamo saputo i metti a posto. Questa per me è la sintesi di quello che sta avvenendo in questi giorni. E devo essere sincero, poi parleremo con il nostro secondo ospite di un altro progetto, ma ne parliamo dopo, non anticipiamo nulla. Intanto, senta, facciamo entrare subito il nostro primo ospite col quale parleremo di un argomento invece interessante, direi anche abbastanza... un argomento di tutti i giorni. Praticamente parliamo col signor Romano Magrini, che è responsabile delle relazioni sindacali, del lavoro, dell'immigrazione e sicurezza presso la Col di Retti. Buonasera. Buonasera a voi. Ho sbagliato con tutte le sue nomine? Assolutamente perfetto. No, però lei dico, c'era una cifra, insomma, relazioni sindacali, lavoro, immigrazione, sicurezza. Cioè, voglio dire, praticamente, è come dire, lei è la Col di Retti, insomma. Di questo periodo poi è particolarmente intenso il lavoro su queste tematiche. Di questo periodo. Senta, è inutile girarci intorno. La prima domanda è quella proprio sull'immigrazione. C'è l'immigrazione che lavora nei campi, che lavora per la raccolta in questo momento e che pare, voglio dire, in quest'ultimo decreto, pare possa essere messa a posto a livello giuridico, perché pare non fosse a posto. Insomma, ce ne vuole parlare un po' lei dal suo punto di vista? Sì, diciamo che, come abbiamo visto, come leggiamo ancora, non in maniera ufficiale, il testo, c'è questa proposta all'interno del decreto rilancio, appunto, di prevedere una regolarizzazione, una sorta di messa a posto di tutte quante quelle situazioni che ad oggi non lo erano, che riguardano i migrati, ma che riguarderanno anche i lavoratori italiani. Io qui divido due commenti. Un commento di carattere, tra virgolette, politico italiano, cioè un paese civile sicuramente non può non tener conto di una situazione dove ci sono molti lavoratori che per le loro condizioni non possono lavorare regolarmente, che sono in qualche modo dei fantasmi all'interno sul territorio italiano e che sono molto spesso anche nelle mani della criminalità, perché non potendo lavorare regolarmente sono nelle mani della criminalità. Quindi un paese civile non può non tener conto e affrontare una situazione del genere in qualunque modo, dall'espulsione alla sanatoria, alla regolarizzazione o quant'altro, però non si può far finta che non esistano. E questa è una scelta della politica, dei partiti, del governo, quello di fare questo tipo di operazione. A fianco a questo però c'è un'altra esigenza, che è quella della mancanza di manodopera che in questo momento sta vivendo il settore agricolo. E che noi abbiamo stimato che sia intorno ai 150-200 mila persone, che non sono numeri da poco in questo momento. Ora, legare le due cose è secondo noi sbagliato per un semplice motivo, perché da quando si potrà fare la legge in gazzetta ufficiale, da quando si potranno iniziare a presentare le domande, fino a quando i lavoratori non avranno un permesso di soggiorno per poter lavorare, saranno passate settimane, se non mesi. E le campagne di raccolta sono in questo momento a pieno regime e andranno proprio nel loro massimo con i primi di giugno, quando inizierà anche tutta quanta la frutta e tutto quanto. Quindi è importante averlo in questo momento la manodopera. Mi scusi Magrini, perché quello che lei ha detto è molto interessante. Allora io vorrei capirlo meglio. Prima di tutto lei mi dice l'esigenza è adesso, o comunque sarà dai primi di giugno, l'esigenza massima. Nell'esigenza massima mi sembra di aver capito che mancano... Scusate, mi metto sempre questo microfono male e quindi sono cose che capitano. Perfetto. Ora l'ho messo meglio. Sarò più bravo forse, va bene. Bene. Dicevo, mi ha detto che mancano 150-200 mila persone. Giusto? Ho capito male fin qua? Benissimo. Quindi lei dice, è vero che c'è questo problema, però se io oggi penso di sanarlo attraverso la legge che è stata proposta, che è stata fatta, credo che non mi servirà a niente, perché il primo giugno, se voglio far lavorare delle persone, saranno sempre comunque irregolari, perché da qui a pubblicare la legge in gazzetta ufficiale, da qui a farla diventare operativa e bla bla bla, passerà tanto di quel tempo che il pieno della stagione, lei ipotizza, sarà finito. Ho capito male? Sintesi perfetta. Mi dispiace, speravo di aver sbagliato la sintesi. Se è perfetta, è mostruosa, voglio dire. Purtroppo sì. Poi dopodiché è chiaro che la regolarizzazione porterà anche i suoi benefici, nel senso che comunque ci saranno mille, duemila, tremila persone che probabilmente verranno sanate nel settore agricolo. Però sicuramente non andranno a risolvere l'emergenza occupazionale che in questo momento abbiamo e che possiamo risolvere solo in due modi. O attraverso la disciplina dei corridoi verdi, che peraltro nel decreto legge riapertura sembrerebbe avere una possibile soluzione, o attraverso l'introduzione dei voucher. Queste sono le due soluzioni che ci darebbero immediatamente la disponibilità dei lavoratori in questo momento. Allora però mi permetta una cosa. Sui voucher mi sembra di aver capito che il governo è totalmente contrario. Mi sembra di aver capito che il governo non vuole sentire parlare di voucher. Ho capito male? Ho capito benissimo. Perfetto. Perché, scusi, domando a lei? Allora, perché la storia dei voucher che nascono in agricoltura e che poi vengono estesi a tutti quanti gli altri settori è una storia che nel settore agricolo non ha previsto nessun abuso dei voucher. Mentre in altri settori, vedi turismo, commercio e quant'altro, sono stati trasformati i lavoratori dipendenti in voucheristi. Perché il voucher è uno strumento assolutamente flessibile e molto facile da gestire. E quindi alcuni settori lo hanno trasformato i lavoratori dipendenti in voucheristi. Il voucher è diventato il modo per imbrogliare lo Stato e per non assumere le persone in maniera regolare. Punto. Bravissimo. C'è un suggerimento che voi potete dare per far sì che il voucher... Perché io penso una cosa, mi scusi, perché è facile dire che il voucher è un metodo per imbrogliare. Rettore, chiedo anche a lei, ma se io sul voucher metto l'obbligo che la mattina alle 8 devo alzare il telefono e devo chiamare il numero dell'Inps e devo dire che il lavoratore che si chiama Stefano Bandecchi carta di identità numero, va bene? Oggi alle ore 9 comincia a lavorare presso l'azienda Stigavoli col voucher numero 1127 e devo buttare giù il telefono io credo che nessuno può più diventare e usare il voucher che poi in realtà non viene scritto. Cioè c'è un modo facile per fregare i furbi. Questo per esempio è un modo banale o no, ho sbaglio? Ma era quello che si era cominciato ad attuare alcuni mesi fa poi però è stata esclusa questa possibilità Va bene, Magherini scusi lei lo vede secondo lei è stato escluso perché qualcuno non ne vuole proprio sentire parlare ma questo è un modo efficace oppure no? Guardi le dico quando le dicevo che in agricoltura non c'è stato mai un abuso è perché noi in agricoltura abbiamo previsto una regola molto semplice che nessun operaio agricolo che negli anni è stato assunto come operaio agricolo può essere assunto con i voucher quindi con i voucher possono essere utilizzati pensionati studenti cassi integrati e disoccupati punto chi è stato l'anno scorso operaio agricolo quest'anno non può essere utilizzato con i voucher mai potrà essere utilizzato con i voucher questo vuol dire che la struttura del lavoro dipendente agricolo sarà sempre quella e i voucher servono a coprire quel pezzettino di mercato che normalmente sfugge ecco e poi le faccio un'altra domanda prima di tornare sugli emigrati perché voglio analizzare questa cosa nel modo più oggettivo possibile lei ha parlato anche della regolarizzazione di lavoratori italiani o ho capito male? sì perché dentro questa almeno nelle bozze di decreto che abbiamo visto c'è anche la possibilità di regolarizzare cioè il datore di lavoro può regolarizzare anche dei rapporti di lavoro in nero anche con i lavoratori italiani va bene ho una buona notizia che viene dalla conferenza stampa che domani mattina dovrebbe essere finalmente pubblicato in gazzetta ufficiale così vedremo la versione di vicinia però aspettiamo aspettiamo va bene così diciamo non dovremmo più fare sogni pindarici ma potremmo leggere esattamente i fatti bene però voglio dire per regolarizzare un lavoratore italiano non è che dobbiamo fargli prendere un gommone fargli fare il giro del Mediterraneo e poi tornare indietro basta alzarsi una mattina andare a regolarizzarlo non mi risultava che ci fossero impedimenti particolari se poi un datore di lavoro per caso avesse voluto tutelarsi chiamava un sindacato andava al sindacato azzerava quello che era successo fino a dieci giorni prima e assumeva una persona sbaglio qualcosa? sintesi perfetta non devo aggiungere altro vedete bandecchi sembrano le cose più facili per carità nulla è facile però sembra che delle volte si abbia la volontà di complicarle la prossima volta voglio fare se non il presidente del consiglio voglio fare l'assistente al presidente del consiglio no perché se tutto quello che dico è facile allora c'è un problema perché io che sono un uomo normale che cammina per strada uno poraccio che va tutti i giorni a lavorare come tutti gli altri voglio dire se le capisco io queste cose se diventano banali e semplici possono essere aggiustate senza bisogno di grandi conferenze stampa e grandi colpi di mano comunque vabbè taglierò corto voglio fare un'altra domanda quanti ne mancano lei ha detto 150.000 200.000 ma ho capito male quanti rettore quanti come si chiama redditi di cittadinanza abbiamo in Italia guardi intorno al milione e mezzo dovranno essere molti di più ma poi ma meno male sono un milione e mezzo ma grazie a Dio dovranno essere molti di più vuol dire che tutti hanno trovato un lavoro normale e vanno a lavorare tutte le mattine regolari ma perché scusatemi queste persone che prendono già da tutti noi italiani un reddito di cittadinanza e di solidarietà perché queste persone allora non si rendono utile come solidarietà e vanno a fare questo lavoro non dico quello che ha 70 anni quello che Porino non ce la fa quello che ha un problema ma ci saranno tante persone come me due braccia due gambe normali che possano andare e fare questa questa raccorta 150.000 200.000 persone ne resterebbero sempre un milione e tre a casa a non fare niente l'altri vanno a lavorare scusi ma Grini è una brutta idea questa qua non l'avete mai proposta voi perché non possono venire quelli che hanno reddito di cittadinanza allora non è assolutamente una brutta idea ma l'abbiamo proposta e abbiamo detto e nell'idea dei voucher c'era anche siccome i voucher possono essere utilizzati anche per coloro i quali godono di un ammortizzatore sociale come il reddito di cittadinanza piuttosto che la cassa integrazione non passando i voucher abbiamo detto benissimo dateci la possibilità di assumere anche tutti quegli italiani che in questo momento godono di un ammortizzatore sociale o anche del reddito di cittadinanza in modo tale che loro non perdano almeno in tutto i loro ammortizzatori sociali quindi il reddito agricolo si somma al loro ammortizzatore sociale perché come lei sa se io sono un lavoratore in cassa integrazione prendo circa l'80% ma con dei limiti del mio stipendio quindi vuol dire che se io ho fatto i miei conti acquistando una casa acquistando una macchina e in questo momento sono in cassa integrazione probabilmente i miei conti vengono scompolti e quindi noi abbiamo detto non fategli perdere tutto quanto andiamo a sommare almeno per un periodo andiamo a sommare uno e l'altro senta però mi scusi non vorrei sembrare inopportuno e nemmeno come dire strano però voglio fare una riflessione il reddito di cittadinanza non è che lo prendi perché sei solo cittadino lo prendi perché sei un cittadino italiano che in questo momento di disagio non ha un lavoro dico male rettore? no dice bene perfetto allora mi domando questo quanto guadagna una persona che raccoglie pomodori che raccoglie insalate non lo so che lavora nei campi quanto guadagna al mese 20.000 euro 30.000 euro 80.000 euro quanto guadagna al mese 1000 euro quanto guadagna? guadagna diciamo tra i 50 e i 60 euro netti al giorno perfetto vuol dire che se lavora 10 giorni sono 500 euro se lavora 20 giorni sono 1000 euro giusto? esatto perfetto allora mi scusi siccome chi fa un reddito di cittadinanza prende dai 750 euro mi è stato detto fino a 1200 in base alla famiglia vuol dire che già 1300 euro 1200 euro 1000 euro gli sono stati pagati quindi 20 giorni di lavoro sono pagati cosa intendo dire? intendo dire che se vengo io a lavorare nel suo campo e io ho reddito di cittadinanza non è che lei mi deve aggiungere dei soldi lei i soldi che deve a me 50 euro al giorno li versa allo Stato che poi li utilizzerà per un altro reddito di cittadinanza per un'altra persona perché giustamente io già prendo i miei soldi se poi lavoro 25 giorni vuol dire che lei conguaglierà le 250 euro di differenza se io prendevo solo 1000 è un calcolo difficile questo? non è un calcolo difficile anzi è semplicissimo il piccolo problema è che in tutti questi mesi nessuno è venuto a lavorare nei campi di quelli che prendono in reddito di cittadinanza ma bastava per questo che io ho una bella tenuta in Inghilterra e mi sa che prima o poi ci vado no voglio dirvi signori scusate quello che sto dicendo io non lo sto dicendo perché faccio il furbo dato che tutti qua guardano l'Inghilterra la Francia la Germania gli stranieri sono più intelligenti quello che vi sto dicendo ora io è quello che fanno già per esempio in Inghilterra è quello che viene fatto in Francia cioè se tu hai un reddito di cittadinanza e in quel momento però servi tu ti alzi c'è una necessità impellente come? c'è una necessità impellente ce l'ha spiegato bravo anche facendo in fretta non si arriva le cose giacciono nei campi i campi sono fatica al di là dei consumi e quindi tu che sei il mio esercito silente un milione e mezzo di redditi di cittadinanza ben venga perché queste persone mica devono andare a rubare io sono felice che una parte delle mie tasse serva al reddito di cittadinanza però oggi sarei anche felice che 150 mila persone facessero il lavoro che deve essere fatto per il quale per me sono già pagate e chi deve pagare questi soldi riversasse allo Stato questo denaro in modo tale da poter comprare mascherine da poter comprare respiratori da poter comprare carrozzine da poter guardare quelle famiglie che hanno un bambino che ha un problema e che deve crescere in una società che non guarda i problemi insomma ce ne sono tanti modi per spendere i soldi e molti modi sono anche molto sani io dico questo che dice Magrini sarebbe una cosa che fa orgoglioso anche coloro secondo me che lavorando nell'agricoltura dicono guarda caso è venuto quello a lavorare io ho versato i soldi che serviranno a fare del bene a tanta altra gente sbaglio Magrini lei è troppo troppo bravo è troppo intelligente fa proposte troppo semplici di facile attuazione mi piace questa cosa un applauso troppo bravo troppo intelligente fa proposte troppo semplici questo è bellissimo questa cosa qua hai ragione siccome sai io vengo dalla campagna quando la mattina aprivo la finestra avevo tutti i campi davanti poi mi giravo e vedevo il bosco poi mi giravo e vedevo il mare allora io posso fare roba semplice perché vengo da un posto semplice dove quando la gente arrivava a casa la sera era bella piena di sudore era con la camicia sporca e con le mani purtroppo da lavare belle callose di quelli quando ti danno uno schiaffo te lo ricordi tutta la vita perché dici oddio che mi è arrivato addosso un pullman invece non era una mano va bene scusa purtroppo siamo il paese della complicazione delle cose semplici ma poi Magrini mi corregga se sbaglio ma al di là del danno economico perché dicevo prima i campi costituiscono una grande fatica e quindi credo che sia anche un dispiacere proprio per coloro che ci hanno lavorato vedere le cose non raccolte perché non c'è gente che non le raccoglie o sbaglio è un disastro economico e morale e civile cioè per un imprenditore avete visto negli anni anche le immagini delle arance che vengono pistate o vengono abbandonate cioè è un disastro per quell'imprenditore è la negazione del suo lavoro si passa la voglia di lavorare esatto noi arriviamo al culmine di quell'annata quando è il momento di raccogliere il frutto di una stagione e perché o ci manca la mano d'opera o perché molto spesso la pagano talmente poco quel prodotto che conviene lasciarlo sulle piante che non raccoglano Magrini però noi dobbiamo spiegare un po' a tutti noi italiani dobbiamo spiegarlo anche a me a tutti noi dobbiamo spiegare a cosa serve l'agricoltura e come mai l'agricoltura è salvaguardata perché vedete è come un po' parlare di covid e degli ospedali noi abbiamo piano piano levato tutti i letti disponibili per poter essere curati poi è arrivato questo animaletto piccolino ok che ci ha messo tutti ci ha trattato tutti da imbecilli perché ci ha fatto chiudere in casa tutti in galera perché perché non c'eravamo posti in ospedale c'eravamo posti letto e quindi arrivato all'agricoltura l'agricoltura è vero che in un mondo globale dove tutto va bene potrebbe anche servire a poco perché a me gli aranci mi arrivano da Israele anziché dalla Sicilia anche se quelli di Israele sono meno buoni di quelli della Sicilia io lo voglio dire è vero che l'insalata mi può arrivare anche dalla Spagna anziché dall'Italia tutto vero però poi arriveranno i momenti particolari dove l'agricoltura è un bene primario perché se non mangi non fai nulla il cervello non funziona ed ecco perché l'agricoltura deve essere da tutti noi sovvenzionata e tenuta da conto senza smettere di produrre certe cose dico male Magrini ho sbagliato qualcosa no 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 dice benissimo io aggiungo soltanto una cosa rispetto a quello che dice lei cioè il fatto che è la nostra agricoltura italiana è l'agricoltura del vero made in Italy perché non dimentichiamo che ciò che viene prodotto in Italia sta dentro le regole dentro i controlli certo ha delle regole delle regole rigidissime se è biologico è biologico se è normale è normale ma è vero è roba curata nella maniera giusta è roba fatta da noi sulla nostra terra nasce con il nostro sole nasce con i nostri minerali cioè prende la nostra terra e ce la rimette dentro ma ci sarà un motivo per cui in tutto il mondo è un prodotto su quattro italiano certo solo il nostro prodotto non il made in Germany solo il made in Italy allora il motivo è perché come dire abbiamo i prodotti più buoni e ce lo dobbiamo dire quelli che fanno meno male perché sono i più controllati e diciamoci e invece però questo vuol dire tutelare il vero made in Italy io credo che un sano patriottismo sì diventa fondamentale è un sano patriottismo perché scusi quando abbiamo dovuto mandare i nostri malati in Germania in Svizzera in Francia un po' ci siamo anche un po' umiliati quindi non vedo perché non avere un po' di sano patriottismo abbiamo dovuto chiedere grazie in tutte le lingue del mondo grazie per la mascherina grazie per i vostri infermieri grazie per i vostri medici grazie perché ci volete sopportare grazie perché ci aiutate basta dopo tutti i grazie che abbiamo detto vogliamo mettere a posto anche qualcosa e non chiedere più grazie a nessuno perché è bello ricevere delle mosine una volta due volte un aiuto tre volte ma io preferisco aiutare gli altri piuttosto che vedere gli altri che vengano a aiutare me e poi Bandecchi prego ma poi oltre a tutte le considerazioni che abbiamo fatto ce n'è una di fondo che io spesso predico che l'Italia dovrebbe trovare proprio nel turismo nell'agricoltura due leve fondamentali per risanare i conti pubblici perché sono due peculiarità italiane cioè è assurdo non sfruttarle in modo adeguato però di contro voglio dire una cosa che mi corregga ma che mi sbaglio c'è anche disaffezione verso il lavoro nei campi perché il lavoro nei campi è faticoso questo è indubbio e spesso gli italiani forse tendono anche quelli che vengono da famiglie che tradizionalmente hanno fatto i contadini ecco c'è questa tendenza ancora direttore però a lei un po' di lavoro nei campi le farebbe buono io obbligherei tutti i professori universitari a fare due mesi l'anno di lavori nei campi perché almeno sanno cosa vuol dire lavorare perché se no passare una vita senza sapere cosa vuol dire lavorare è una cosa brutta ma io avevo tutti i nonni che facevano i contadini no no non è che il lavoro di sua nonna vale per lei facciamo una cosa rettore quando finisce il covid e lei andiamo a raccogliere pomodori per una messata dopodiché chi ne dà due torna io torno sicuro lei non lo so detto questo no riprendo riprendo la considerazione che faceva il rettore giustissima c'è stata un'inversione di tendenza in questi ultimi anni nel senso che c'è stata una riscoperta del settore agricolo dell'importanza del settore agricolo dal punto di vista ambientale dal punto di vista della dieta mediterranea della salubrità di prodotti quindi abbiamo per esempio le scuole di indirizzo agricolo che hanno iscrizioni a doppia cifra sono tantissimi giovani che si sono iscritti alle scuole sia primarie che secondarie che all'università di indirizzo agricolo e ci sono tantissimi giovani che hanno voluto aprire delle imprese agricole innovative agriturismi piuttosto che altre attività quindi c'è un ritorno importante c'è un mercato importante c'è un mercato che parte dall'agricoltura passa per l'alimentazione e arriva al turismo al turismo assolutamente voglio dirle una cosa Bandecchi adesso dico questa cosa quel signore che viene lì fare il conduttore in realtà è il fondatore dell'università Nicola Cusano e da tempo dice che una facoltà che piacerebbe a lui avere è proprio agraria è vero Bandecchi me lo confermo ma infatti noi abbiamo ingegneria agroalimentare per avvicinarci che insieme alla facoltà di biologia quando i suoi amici del CUN cominceranno a conoscere esattamente le leggi e cominceranno a sapere cosa si deve fare o no in Italia perché qualcuno non ha studiato di quelli che doveva studiare allora noi potremmo unire queste due cose e siccome lei deve sapere anche che noi siamo anche proprietari di sementi cioè in Italia esiste tutto il mercato dei semi perché collegato all'università Nicola Cusano esiste una società che si chiama Mangia Verde che a parte avere una sessantina di ettari di terreno adesso non vorrei sembrarle poi così dove facciamo i nostri pomodori i nostri carciofi che poi consumiamo nella nostra mensa perché insomma è tutto un meccanismo diciamo molto divertente ma anche molto bello a chilometro zero è molto italiano noi partiamo proprio dal seme perché abbiamo proprio la pianta madre quindi abbiamo il nostro seme e poi andiamo avanti questa è una cosa che mi ha sempre affascinato io ho sempre pensato che essere proprietari di sementi saper gestire l'agricoltura avere la possibilità di avere il cavolo nero quando deve nascere il cavolo nero la verza quando deve diventare verza le patate avere i carciofi le melanzane cioè poter avere questo vuol dire essere ricchi perché non morirai mai di fame in ogni guerra del mondo in ogni guerra del mondo chi viveva in campagna non è mai morto di fame solo chi viveva in città è morto di fame e ricordo che se non sbaglio in Groenlandia c'è la grande banca dati mondiale dei semi dove sotto i ghiacci ci sono scustoditi i semi che il mondo deve custodire non i batteri non il virus del vaiolo non il virus del covid i semi quelli che danno vita stessa differenza tra ponti e muri vita contro morte va bene comunque una cosa voglio dirle Magrini lo dico spassionatamente a me col diretti piace perché devo dire anche i mercati quando vai io sono uno che va a fare la spesa adesso facciamo ridere Vandecchi però io vedo proprio la differenza anche visiva si vede spesso che i prodotti hanno una genuinità differente e poi mi è piaciuto molto anche il servizio che avete offerto di consegne con l'organizzazione che avete fatto posso dirle una cosa anche questa è stata una cosa bellissima quella delle consegne a casa perché ha risolto moltissimi problemi e moltissime cose ma voglio dire una cosa per me è una differenza spesso che ho noto tra i pomodori che nascono in Italia che vivono in Italia e i pomodori che arrivano chissà da quale parte del mondo che quelli che arrivano chissà da quale parte del mondo a me mi sembra di mangiare una mela quelli che arrivano praticamente dall'Italia hanno anche qualcosa dentro che è polpa li puoi spalmare sul pane danno qualcosa quella che arriva in Italia è una mela cosa mi dai una mela dammi una mela è la stessa cosa poi me la tingi di rosso io ti anche dentro è vero arrivano tutti uguali tutti belli lucidi tutti belli lisci tutti perfetti la stessa pezzatura guardi è come la differenza tra me e il rettore lui bellino con i capelli abbronzato non vale nulla io invece bello brutto pelato così no sto scherzando Magrini ci devi perdonare 62 puntate di fila io scherzo insieme a voi va bene va bene Magrini grazie grazie e speriamo di essere stati utili anche un po' noi alla sua causa assolutamente sì credo che non si possano lasciare nei campi questi prodotti che sono il nostro vero oro è un peccato è un delitto dai bisogna trovare il modo per poter mettere a posto sta cosa veramente cioè colleghiamo il cervello e facciamo diventare facile quello che è facile sembra non essere ma che poi è banale e semplice perché per lavorare la terra servono le mani voglio dire serve un po' di cuore punto e basta mettiamoci un po' di cuore anche nello scegliere come gestire la terra non ci mettiamo solo a piangere in televisione andiamo a piangere anche in mezzo ai campi va bene grazie grazie buona serata buon proseguimento arrivederci grazie arrivederci va bene è bello parlare con chi conosce la terra con chi sì è bello questa cosa è bella certo meraviglio lei ha detto che va a fare la spesa lei sì ma si porta anche l'uomo di fatica per portare le borse o le porta a lei no no ce la faccio ce la fa andiamo in pubblicità che se vado avanti qua diventa una serataccia Radio Cusano TV Italia siamo in emergenza ma la campagna non si ferma e gli agricoltori di Campagna Amica sono nei campi al lavoro per garantire a tutti i cittadini cibo sano sicuro e di qualità col diretti in tutta Italia sta portando la spesa a casa degli italiani basta andare sul sito campagnamica.it e cercare la lista di tutte le aziende e gli agriturismi che in questo periodo complicato stanno continuando a portare le eccellenze del territorio sulle nostre tavole l'agricoltura è vita tu sostienila segui e supporta l'hashtag Mangia Italiano Toscano è vicina a tutti gli italiani in questo momento difficile in cui dobbiamo stare a casa grazie alla nostra tecnologia per vendere e comprare casa noi rimaniamo operativi e in contatto con voi insieme ce la faremo con Frontline Triact triplazione mentre lui corre scopre esplora gioca tu proteggi la sua libertà Frontline Triact triplazione azioni mirate e di lunga durata azioni insetticida su papataci zanzare pulci e zecche azione repellente su papataci zanzare e zecche è un medicinale veterinario leggere attentamente il foglio illustrativo non usare nei gatti e conigli proteggi la sua libertà con Frontline Triact i sogni sono desideri di felicità nel sogno non hai pensieri ti esprimi con sincerità se hai fede chissà se un giorno la sorte non ti arriderà tu sogni e spera fermamente dimentica il presente è il sogno realtà di arriva Disney Plus con Team Vision la scatola magica dei tuoi desideri ad un prezzo esclusivo solo con Team e i primi tre mesi sono in regalo chiama il 187 o vai su team.it Radio Cusano TV Italia Buonasera 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 Onorevole Mollicone dunque io leggo tutta una serie di cose Deputato Fratelli d'Italia sbaglio? Giusto Membro della settima commissione Cultura, Scienze e Istruzione e membro commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio e televisivi ho sbagliato qualcosa? No no esatto sono stato fortunato Sport Editoria tra le competenze della settima Scienze e Ricerca perché è proprio un antico vizio il Parlamento non mettere tutte le competenze di cui la commissione si occupa abbiamo dovuto fare pensi una proposta di legge che è al baglio del presidente Figo per mettere tutte le diciture perché molti non sanno che la settima commissione non è la commissione sport no non lo sanno perché c'è scritto cultura, scienza e istruzione e non si può arrivare a capire che è lo sport bisogna aggiungerlo sicuramente ha ragione senta ma a proposito di questo dato che lei parla di sport le posso fare una domanda sullo sport allora così a bruciapelo? tutto quello che vuole ma per quanto riguarda il calcio come siamo messi? per quanto riguarda il calcio Punte in questa singolare conferenza stampa molto da Truman Show sembra detto che non ci sono le condizioni per far ricominciare il campionato quando la Lega Calcio si era espressa ovviamente in indirizzo diverso ha proposto il 13 giugno e a maggioranza il decreto riporterà che il calcio finisce? beh sicuramente è un grave danno no no ma dico il decreto riporterà che il calcio finisce o non riporterà nulla? no non riporterà da quello che sappiamo non riporterà nulla però io sono stato sono intervenuto al nome di Fratelli Italia al termine dell'informativa del ministro Spadafora un più tardi di giovedì scorso in aula e già si capiva che il ministro aveva il governo aveva un orientamento contrario alla ripresa del campionato e mentre stava parlando il ministro la Lega Calcio rilasciava il comunicato che invece diceva il mondo del calcio diceva che si poteva riprendere ma bene non è solo il problema del mondo del calcio come sappiamo in Italia ci sono 575 mila partite di calcio che sono tutte le giovanili le amatoriali i vari campionati non è solo serie A insomma il calcio non è solo serie A quindi è un danno proprio a un intero mondo e aggiungo c'è il tema anche poi ovviamente di tutto lo sport perché non bisogna mai dimenticare che lo sport italiano non può essere ovviamente limitato soltanto al calcio che è importante per la tradizione perché come ha detto Giorgio Meloni rappresenta l'Italia ma ovviamente c'è un indotto di 15 milioni di persone che praticano dal fitness a altri giochi di squadra agli sport individuali e quindi insomma siamo una grande nazione anche per questo senta le palestre riapriranno il 25? sì anche qui grande scetticismo noi siamo stati come Fratelli d'Italia in una fase di ascolto con appunto con Skype con Zoom con tutte le piattaforme di tutte le categorie è nato anche un movimento che era insomma che riapriamo le palestre che sta su Facebook e abbiamo ascoltato le categorie che giustamente ci dicevano ma noi riapriamo ci dicono anche qui con grande ritardo perché Spadafora l'ha confermato soltanto la scorsa settimana e in pochi giorni nonostante l'ufficio sport il CONI le federazioni medici sportivi abbiano stilato una linea guida peraltro anche con il confronto con l'opposizione e con le categorie nonostante questo quindi la collaborazione e quindi è importante sottolinearlo nonostante la collaborazione i tempi sono strettissimi e c'è il timore che le persone giustamente con questa sindrome anche diciamo questo condizionamento mediatico che c'è stato non abbiano la serenità di tornare in palestra poi c'è tutto il tema dei voucher i voucher di chi ha fatto un abbonamento e si è visto sospendere dei gestori delle palestre che sono ovviamente responsabili rispetto a questi abbonamenti e su questo noi abbiamo chiesto che ci siano appunto dei voucher per sostenere i gestori delle palestre e garantire il diritto dei consumatori e degli utenti beh ora però diciamoci con franchezza il voucher potrà servire per non restituire i soldi di questi mesi che sono stati sospesi però poi andrà a influenzare l'anno prossimo perché o il voucher si trasforma dico una battuta in una maglietta o si trasforma nei due mesi che non ha fatto ora che farai nel 2021 quindi le palestre sempre un grande danno hanno avuto cioè non so se il voucher a livello contabile amministrativo per l'imprenditore che ha la palestra è poi sufficiente perché è sufficiente lì per lì a non tirare fuori i soldi oggi ma in qualche maniera li tirerà fuori fra due mesi tre mesi o no sbaglio infatti insieme al voucher sono state richieste tutta una serie di finanziamenti anche a fondo perduto per adesso il fondo perduto non c'è c'è solo la garanzia che comunque ma in questo decreto arriva anche il fondo perduto onorevole che cosa in questo decreto che uscirà domani speriamo insomma o comunque prima di agosto così anche se se non si chiama maggio riusciremo a leggere almeno per giugno hanno dovuto cambiare nome perché uscirà ad aprile sì sì è una battuta io l'avrei chiamato semplicemente decreto così decreto ritardo perché decreto ritardo ma no dico in questo decreto si spiegherà qualcosa di più approfondito cioè a me sa cosa cosa mi ha meravigliato di questo decreto a parte che mi sembra che manca il fondo perduto ma mi ha meravigliato che siamo passati da 4 metri a un metro da spazi enormi a spazi limitatissimi da per aprire ci vogliono altri 6 mesi ora invece aprite non avete ancora aperto e che fate cioè mi sembra quasi un po' la corsa a sbrighiamoci a far tutto così fra 15 giorni vi possiamo dire state a lavorare pagateci le tasse perché non ci abbiamo più una lira qua dentro questo è il decreto di oggi bravissimo infatti il tema è proprio questo io questo pomeriggio sono stato come una delegazione di Fratelli d'Italia in solidarietà una manifestazione simbolica davanti al Pantheon del mio che è il movimento degli operatori della ristorazione nato spontaneamente e che in più città d'Italia ha fatto una manifestazione proprio per denunciare questo in teoria dal 18 i ristoratori i bar i locali possono riaprire ma sono stati da queste linee guida sono stati trasformati in astanterie in ambulatori perdendo ovviamente l'attrattiva in nome di una sicurezza che sicuramente in alcune zone è da tutelarsi in altre molto meno anche qui la statistica abbiamo fatto gli studi statistici con l'ufficio studi di Fratelli d'Italia ma poi abbiamo letto anche quelli di altri studi di ricerca andava calibrata la sicurezza sanitaria in base alle zone di contagio in realtà è stata applicata a tutti e questa manifestazione denuncia proprio questo cioè noi non riapriamo questo era lo slogan di questi ristoratori perché perché si interrompe la cassa integrazione ricominciano a correre i costi le bollette gli affitti e i clienti non ci sono perché chi è che va sia per sempre questo clima d'allarmismo che si è creato ma anche proprio per l'estetica per il piacere di andare conviviare di andare a cena con degli amici ma chi è che va in un ristorante noi abbiamo avuto la prova onorevole Molligone sa cosa mi viene in mente che un giorno fra molti anni quando avrò i capelli bianchi mai forse e la barba bianca ora non ve la voglio dire per lei aspetta ma voglio dire quando sarò veramente molto vecchio e racconterò a mio nipote c'è stato un giorno figlio mio dopo il 18 il 19 di maggio del 2020 dove io veni mandato a fare una missione speciale la guerra covid mi presero dal mio appartamento e dal mio divano e mi mandarono in un ristorante e dovetti scenare in un ristorante sotto quella situazione pazzesca dove non potevo toccare il menù e mi davano una botta sulla mano se toccava il menù non prendere il pane che arriva mescolato levati la mascherina metti un boccone richiudi la mascherina respira insomma dopo questa missione speciale non presi il covid tornai a casa e abbi un mese di vacanza e di stress mi sembra che si potrà raccontare così fra qualche anno una scena al ristorante assolutamente vi do un esempio concreto anche alla camera hanno riattivato il ristorante ed è diventato un ambulatorio cioè di tavoli senza tovaglie ti viene dato un bassoio con tutte le stoviglie usa e getta e all'interno puoi scegliere un menù o l'altro perché ovviamente le cucine devono semplificare e ci sono i camerieri che sono vestiti come infermieri è veramente una desolazione e mangiamo uno a distanza dell'altro di 4 metri quindi ogni tavolo c'è una persona sola è proprio l'antitesi del convivio per cui però mi sembra che hai capito che vi danno anche un telefono quando entrate dentro per parlare da una tavola all'altra una radiolina ma davvero non c'è la distanza per interlocuire con la persona che è accanto vabbè non è il ristorante al quale eravamo abituati fino all'altro ieri al quale non eravamo abituati ad andare insomma è evidente che non è più il mondo che era prima ma allora mi scusi però perché io leggo delle cose che sono anche un po' in dissonanza con questi fatti cioè noi siamo tanto preoccupati di tutto quello che succede distanze però poi il 3 di giugno possono venire tutti da noi senza nessuna quarantena meno male se no il turismo sarebbe morto ma secondo lei gli stranieri verranno da noi dato che noi siamo così impauriti e su tutti i nostri giornali ci sono tutte queste paure esternate ogni giorno cioè verrà un tedesco un francese a mangiare in un nostro ristorante a distanza vestito in un certo modo ci verranno o no? no perché molti paesi a cominciare da quelli europei e le altre nazioni hanno nei confronti dell'Italia un atteggiamento quasi punitivo o comunque di eccessivo protezionismo per cui hanno già alcune nazioni hanno già detto che non riapriranno gli spazi aerei agli italiani e comunque sarà molto progressivo e ci saranno molti controlli quindi rischio che magari un italiano che fa all'estero anche per lavoro rischia di essere messo in quarantena e lo stesso i turisti c'è una dissuasione anche in maniera diciamo lo fanno anche per nazionalismo per sciovinismo e per cui stanno creando un allarmismo ma peraltro poi c'è un problema strategico cioè il tour operator il mondo del turismo lavora a uno o due anni i grandi tour operator per cui quando tu hai fatto saltare una stagione turistica prima che si rientri al ritmo ci vuole almeno un altro anno quindi bisognerà puntare sul turismo interno e su questo l'idea proposta anche da Fratelli d'Italia e da Giorgia Meloni di aiutare le famiglie italiane viste anche i problemi economici a avere un bonus per il turismo interno è stato ricevuto parzialmente come al solito con pochi fondi e per periodi ristretti però almeno il principio è stato accolto dal ministro Franceschini che però delude perché poi sul turismo si preoccupa di allargare il consiglio dell'Enit con altri due poltrone per sistemare qualche suo amico e comunque i soldi per il turismo in Italia sono pochi sembrano tanti perché a sentire 5 miliardi sembra una grande cifra ma se andiamo a convenire la Germania la Germania ne ha messi 18 sul rilancio turistico quindi c'è un problema di cifre i soldi sono pochi anche nella filiera culturale noi abbiamo fatto una battaglia per avere il fondo d'emergenza è stato inserito abbiamo fatto approvare una risoluzione all'unanimità in Commissione Cultura facendo il nostro lavoro di opposizione seria e credibile che propone anche e alcune di queste proposte sono state accettate dal Ministro Franceschini inserite nel prossimo decreto mi scusi onorevole Molligone i soldi onorevole però alcune vostre proposte mi sembra che siano state accettate sul serio perché lei mi diceva alla Camera dei Deputati il tavolo è 4 metri l'uno dall'altro mi sembra che nel decreto che dovrebbe uscire domani mattina invece lo spazio tra i tavoli nei ristoranti si sia ridotto a un metro tra un tavolo e l'altro questo è uscito Bandecchi non è anche nel rilancio nel decreto rilancio è uscito oggi questo decreto riguarda ok quindi un metro è così no perché un metro allora scusate sono più vicini di prima tavoli un metro è pericoloso però ho capito però io voglio fare la prima domanda un metro è uscito a un metro cioè io quando andavo al ristorante prima non ci portavo la metro perché se no tutti a un metro andavo in una trattoria tutti a un metro cioè detto questo allora sono andati incontro ai ristoratori sì sembrerebbe un po' sono state modificate le linee guida anche per le palestre pensate che all'inizio gli sportivi e gli operatori che facciano lo sport i frequentatori dovevano stare a 5 metri voi immaginate che cosa sarebbe potuto succedere in una palestra adesso è stato ridotto a due metri lineari grazie proprio alle trattative che sono state fatte con le associazioni di categoria dell'impiantistica e gli enti di promozione quindi ok i corpi intermedi e l'opposizione servono anche a questo anche nei momenti di emergenza bene ma allora i ristoratori onorevoli i ristoratori sono stati accontentati allora perché se adesso possono aprire il ristorante con tavolini a un metro qualcuno che ne aveva 40 di tavolini forse ne può mettere 52 cioè a me sembra voglio dirle però Bandecchi ci sono ristoranti piccoli di pensi al centro dove si lavora con distanze comunque secondo me un metro è poco mi dispiace per me la salute del primo posto io non vorrei che fossimo rimasti tutti fermi secondo me hanno fatto un decreto porcata cioè ci sono delle cose che sono state fatte male male non c'è più nessuna sicurezza la sicurezza è andata a farsi bere cioè il fatto di lavare le tovaglie ok il fatto che non c'ho il menù ok ho risparmiato soldi poi ho fatto mettere tavolini a metro non ho più limitazioni dell'uno davanti all'altro se non che un pezzettino di plessiclass guardate che in queste ultime ore è successo qualcosa secondo me al quale non eravamo abituati cioè le palestre devono riaprire il 25 possono riaprire anche le docce possono riaprire gli spogliatoi guardate che non mi sembra che ci sia è stato un allargamento sì non mi sembra che ci sia questa attenzione alla sicurezza mi sembra che siamo un po' andati andate a lavorare e portate la pagnotta a casa cioè io ho questa impressione poi leggeremo meglio il decreto bisogna fare un'analisi generale allora come dicevo prima il contagio ha colpito purtroppo delle aree mentre il lockdown è stato totale questo ha portato che in zone e regioni dove il virus di fatto non è arrivato pensiamo al Lazio pensiamo con la capitale pensiamo al Molise all'Ambruzzo alla Basilicata alla stessa Calabria alla Sicilia cioè purtroppo per italiani che vivono in Lombardia in Veneto in Friuli Venezia Giulia fino alla Toscana e in Mila Romagna c'è stato il virus in alcune città come Milano ha avuto un impatto anche fortissimo o Bergamo ma nel resto d'Italia e lo dicono le statistiche non lo diciamo noi non lo dice Fratelli Italia le statistiche assolute non quel bollettino discrezionale che viene rilasciato ogni giorno dalla protezione civile e che è stato anche strumentalizzato lo dice l'Istat se uno fa la statistica assoluta sui contagi sui recessi stiamo parlando di percentuali dallo 0 virgola quindi che cosa significa che andava fatto come sul modello coreano andava fatto un test a pioggia a tutta la popolazione e un tracciamento digitale rispettoso della privacy non certo come l'applicazione immuni che potesse evidenziare spostamenti eventuali contagi positivi e tracciare i positivi e ricostruire la storia esposta dei positivi questo modello che in Corea ha funzionato da noi non è stato realizzato è stato teorizzato ma a un certo punto presi dal panico hanno preso e hanno portato tutto ecco bravo onorevole lei ha usato la parola giusta panico all'inizio e una gestione strana all'inizio panico alla fine perché se io a un certo punto dovevo chiudere la Lombardia l'Emilia e il Veneto non dovevo chiudere la Sardegna e la Sicilia perché avevano un mondo diverso dovevo proibire ai Veneti e ai Lombardi di andare in Sardegna controllare e visionare cioè ci sono state delle situazioni gestite a mio avviso con troppa in modo maldestro all'inizio e poi delle situazioni che oggi sono gestite in maniera ancora maldestra perché primo è stato dato alle regioni la possibilità ognuno faccia come vuole per me troppo presto e avremo delle delusioni da questo tipo di situazione mi dispiace doverlo dire per primo ma non sbaglio quasi mai vedremo avremo delle delusioni perché la gestione di ristoranti palestre è sbagliata in questo momento mi dispiace doverlo dire a me ma all'improvviso è diventato tutto è finito tutto siamo tutti liberi io spero che sia così e confido molto nel mese di giugno spero cioè che questo virus influenzale vada a nanna come fanno i virus dell'influenza e quindi anche i coronavirus che sono cugini del virus dell'influenza spero che vada a nanna ma se non va a nanna noi avremo delle sorprese mostruose specialmente quando poi ricominceremo a un certo punto a girare per regioni perché scusatemi qualcuno ha detto siamo un'Italia unita e io guardi mi creda io credo che sia un'Italia unita però non possiamo essere uniti dicendo che il siciliano può andare tranquillamente in Toscana come il Lombardo può andare in Toscana perché oggi il siciliano ce n'è un caso ogni un milione che c'è il virus in Lombardia è un po' diverso quindi ci voleva una gestione anche economica totalmente diversa e poi una gestione per la sicurezza che era una storia che dovrà essere in futuro una storia diversa rispetto a quella che è stata cioè non si chiudono tutte le attività produttive e non si confondano le attività produttive con le attività puramente ludiche mi spiego meglio se io esco di casa per andare a lavorare devo correre un rischio se io esco di casa per andare semplicemente a fare una passeggiata è un altro rischio quindi questi due rischi vanno messi sullo stesso piano poi bisogna vedere anche cosa stanno facendo gli altri avete visto adesso non mi ricordo in quale nazione hanno chiuso frettolosamente le scuole oggi sono tornati indietro sulle scuole che erano state aperte e le hanno immediatamente chiuse perché si sono accorti che ci sono dei focolai che sono ripartiti subito guardi che i focolai sono un pericolo che corre anche l'Italia sì però ci vuole l'Italia c'è un altro pericolo che ci vuole il cervello collocato e non si deve continuare tu scusi onorevole perché sono 62 settimane che parlo di cose vedo gente voi mi dovete perdonare meno male che fra un po' ho finito queste trasmissioni e torno a fare l'imprenditore e basta però voglio dire ci vuole di ragionare in maniera serena tranquilla vedendo quello che si può fare e quello che non si può fare se no si butta l'acqua con il bambino e poi dopo ci si accorge che non abbiamo l'acqua dice no ma il bambino boh anche il bambino cioè facciamo dei casini che sono allucinanti allora riprendendo il bambino andiamo a raccattare l'acqua per terra si guarda ma l'acqua a che te serve? no però se ho ripreso il bambino devo riprendere anche l'acqua guardate che siamo confusi forte ogni regione ragionerà per conto proprio allora l'Italia non è unita perché se ogni regione ragiona per conto proprio in questa fase perché il governo ha scaricato sulle regioni queste responsabilità e mi scusi onorevole fregando voi dell'opposizione perché dicendo che ogni regione ragiona per conto proprio ha dato a tutte le regioni piena autonomia quindi se ora voi sbagliate poi dirà che l'opposizione che tanto ha chiacchierato e che niente ha fatto ha sbagliato e guardi che nelle regioni dove c'è più non è proprio così al 90% è così rettore ha iniziato questo sciacallaggio sulla Lombardia sul Veneto sulle regioni a guida di centrodestra ma è stato rispedito al mittente perché poi alla fine nello studio nella spiegazione dei modelli adottati si è visto che comunque lì c'è stata un'emergenza oltre lo standard e quindi è stata gestita in emergenza vera e nonostante questo comunque ha reagito bene sull'apertura generale sul rischio di nuove focolai è vero bisogna fare attenzione e sicuramente bisogna garantire tutta la sicurezza sanitaria ma considerate che i ristoratori non sono stati avvantaggiati perché come dicevamo i ristoranti diventeranno quelli che decideranno di aprire che proveranno rischiare ad aprire sono stati trasformati in laboratori in infermeria quando entrerai ogni coperto deve essere digitalizzato dovranno misurare la febbre ora voi vi rendete conto anche dell'imbarazzo la fraida un cliente entra in un ristorante con la moglie gli misurano la febbre il marito ha la febbre e un cameriere deve dire a un avventore guardi lei qui non può entrare e se trova un avvocato che gli dice giustamente guardi lei non ha la qualifica professionale per poterlo stabilire ha ragione quindi è tutto fatto così in maniera estemporanea i famosi 450 esperti delle task force nominati uno per ogni tema e per ogni argomento alla fine hanno tirato fuori delle linee guida che sono demenziali dal volta perché un conto è se tu mi dici siamo in emergenza allora lo Stato che fa mette davanti a ogni ristorante o comunque per zone un infermiere professionista con il lettore per la temperatura e il termoscanner con tutte le cose e poi quando trova qualcuno che ha la febbre lo segnala alla polizia o alla cosa oppure lo invita a tornare a casa e a segnalare l'influenza e i sintomi già avrebbe un senso ma così noi abbiamo e già ci sono stati casi persino alla RAI nei luoghi di lavoro anche i luoghi di lavoro diciamo piuttosto informati dove sono stati mandati a casa dei giornalisti o dei lavoratori perché uno termoscanner lavorava funzionava male quindi segnava 38 ma poi in realtà un altro termoscanner segnava 36 quel lavoratore è stato mandato a casa gli è stata attivata la procedura e non aveva nessun sintomo guardi io nei primi giorni nei primi giorni nei primi giorni di questa emergenza quando venivo al lavoro mi sono misurato due o tre volte la febbre stando in macchina e in macchina la mia temperatura era 39,2 che bisogna anche preoccupare poi scendendo dalla macchina la temperatura era completamente diversa perché evidentemente la misurazione della mia temperatura in macchina era differente da quella esterna va bene senti le faccio un'ultima domanda giusto per sapere una cosa il 2 giugno porteremo in piazza la libertà e l'orgoglio degli italiani l'Italia chiamò che cosa si va a fare in piazza il 2 giugno diamo voce a quei milioni anche in maniera simbolica rappresentativa rispettando la legge però in più città italiane e anche a Roma daremo voce a quei milioni di italiani lavoratori partite IVA ristoratori piccole e medie imprese dipendenti privati pubblici che sono stati gestiti come se in Italia non esistesse la Costituzione attraverso dei IPCM dei decreti della Presidenza del Consiglio che sono di fatto stati utilizzati in maniera impropria come ha richiamato anche lo stesso Mattarella il Presidente della Repubblica e Cartabia della Corte di Cassazione perché per alimentare anche il narcisismo politico di un Premier che non è stato scelto da nessuno e che ha gestito l'emergenza come un tentativo per rimanere inchiodato alla propria poltrona e il 2 giugno faremo capire che Fratelli d'Italia il centrodestra e noi abbiamo aperto a tutto il centrodestra rappresenta le istanze più profonde e più urgenti del popolo italiano il popolo italiano che è sempre stato orgoglioso che non si è abbattuto di fronte a nessuna iattura nessuna emergenza né dopo la guerra con la ricostruzione dopo i terremoti o le altre le altre gravi gravi vicende quindi comunque il 2 giugno quindi la festa della Repubblica acquisisce un'immagine di tutto particolare anche se bisogna ricordare a tutti che ancora il 2 giugno abbiamo una limitazione di movimento nella regione quindi le modalità saranno nel rispetto delle leggi che poi invece mi sembra dal 3 giugno perché insomma il governo in questo caso ha voluto evitare che il lungo ponte del 2 giugno che partiva venerdì 28 29 potesse diventare insomma la festa del covid il prossimo anno anziché festeggiare il 2 giugno si festeggiava la festa del covid il famoso monte covid il famoso monte covid bravissimo perfetto va bene va bene detto questo è come quando vede è come col moschino tutti pensano sempre che nessuno ha mai capito che cos'era realmente adesso a casa andatevelo a leggere così è col moschino va bene onorevole io la saluto per adesso arrivederla buona serata e grazie per essere venuto nella nostra trasmissione arrivederci allora rettore siamo rimasti in due per la nostra 62esima puntata vedrà che poi ci mancherà un po' questa trasmissione magari è rimasto è rimasto sbagliattiva no perché vede questa trasmissione ma sa cosa cosa stavo pensando quasi quasi la facciamo una volta a settimana no la portiamo su un impianto di due ore anziché avere lei io metterei una bella valletta perché sinceramente lei no voglio dire siamo io e lei in studio però però ci facciamo cioè diciamo che ci aggiustiamo se no ma che ci veniamo a fare televisioni e lei cioè stiamo invecchiando lei lei era già un po' brutto si è diventato più brutto cioè una cosa usiamo la sta televisione ma che cosa facciamo siamo in un'età in cui possiamo solo peggiorare e poi sa cos'è quando saremo liberi tutti io ricomincerò a girare per lavoro Inghilterra Francia Spagna e via quindi ogni tanto sarò fuori allora lei io la promuoverei co co conduttore meno che nei momenti in cui io sono all'estero lei diventa il conduttore proveremo un accordo ecco io mi collego lei mi dà mille euro al mese e io le faccio fare questo lavoro va bene va bene rettore rettore ce l'abbiamo qualcosa di buono a parte queste cose che abbiamo sentito oggi che è sabato il sabato è una giornata è l'ultimo sabato tutti chiusi in casa dai diciamola così il prossimo sabato tutti potranno andare a cena al ristorante e fatelo perché se alla fine i ristoranti sono aperti prima o poi dobbiamo giocarcela quindi il prossimo sabato al ristorante il prossimo sabato tra amici in famiglia in una pizzeria fate quello che volete però cominciamo a muoverci perché sennò è inutile che è liberi tutti lo facciamo con attenzione lo facciamo con cautela la prossima settimana cominciamo a muoverci stando attenti mi raccomando mascherine mi raccomando distanza di sicurezza cioè teniamo presente tutto ciò che c'è da tenere presente però cominciamo a rivivere la nostra vita perché è l'unica che abbiamo finita questa non ce ne daranno un'altra e quindi dobbiamo viverla adesso mentre la stiamo vivendo abbiamo già fregato parecchio tempo sì lei che cosa che cosa ha da dirmi di particolare ma guardi oggi è una giornata di preparazione mentale al fatto che da lunedì comunque torniamo a una normalità direi apparente perché poi normalità non potrà essere anzi questo è un tasto che va battuto bene Bandecchi perché io ho visto anche far giocare 15 bambini a pallone tutti insieme in 20 metri quadri oggi è vero che i bambini non lo prendono però non è vero che i bambini non lo prendono è vero che non conosciamo i rischi di quello che succede ai bambini esatto bisogna stare attenti a proposito di questo le voglio leggere una frase di Ezio Bosso che come tutti sanno è deceduto due giorni fa è una frase che ho trovato molto bella sono un uomo diceva Ezio Bosso sono un uomo con una disabilità evidente in mezzo a tanti uomini con disabilità che non si vedono bellissimo sono un uomo con una disabilità evidente in mezzo a tanti uomini con una disabilità che non si vede lo dico specialmente a tutti quelli che non si comportano nel modo giusto con le loro donne che non hanno ancora capito che uomo o donna è la stessa identica cosa diventate abili per favore buonanotte a tutti buonanotte 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 buonanotte